Buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV sul canale 19. In apertura l'incidente che si è verificato questa mattina alle ore 11 a San Lazzaro di Fano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia locale, un 19enne di origini romane a bordo di una Smart stava percorrendo via Gigli con direzione Ancona quando giunto all'intersezione con via Lelli con l'intento di proseguire la marcia su via Toscanini è andato a collidere con un'altra Smart condotta da un fanese di 72 anni. Quest'ultimo è arrivato dalla sua sinistra, infatti stava percorrendo via Lelli in direzione Monte. A seguito dell'urto l'auto guidata dal 72enne è finita contro il palo della pubblica illuminazione posto all'angolo del civico 26 di via Lelli. L'altro veicolo invece ha terminato la marcia contro il cancello dell'abitazione posta al civico 21 di via Gigli. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Croce, l'anziano in codice rosso e il giovane in codice giallo. E dopo il sinistro sono stati diversi i messaggi e le chiamate alla nostra redazione da parte di alcuni residenti che hanno chiesto interventi da parte dell'amministrazione comunale per la messa in sicurezza di quell'incrocio, spesso teatro di incidenti. Tempo fa avevamo già lanciato appelli anche su Fano TV. Questa richiesta oggi l'abbiamo girata all'assessore Barbara Brunori, la quale ha ricordato che è già stata potenziata la segnaletica stradale e che in quelle vie non possono essere installati dei dossi artificiali e non può essere previsto un restringimento della carreggiata perché sono percorse dalle ambulanze che devono uscire in modo agevole dall'ospedale Santa Croce. Solleciteremo la polizia locale, ha assicurato Brunori, per degli interventi di monitoraggio della velocità.